Ha perso la vita qui, tra le sue montagne, lungo un sentiero che conosceva e che l'avrebbe riportata la malga di famiglia situata in Val di Fundres, laterale della Val Pusteria. Nel paesino di Fundres oggi regna il dolore, l'incredulità e il silenzio per la scomparsa della sedicenne Marlene Weisssteiner. Dispersa da lunedì è stata ritrovata dai soccorritori nel tardo pomeriggio di mercoledì, in fondo ad un canalone. In queste foto scattate dai carabinieri del centro addestramento alpino di Selva Val Gardena si vede il luogo della disgrazia. Il corpo, privo di vita della giovane Marlene, è stato rinvenuto e recuperato dai soccorritori portati in quota con un elicottero. Nel canalone che sale alla cima grava in località Hochfern arghisse a 2.500 metri di quota, poco lontano dalla malga di famiglia. Il voler ricondurre due caprette che si erano spinte al di qua della forcella di Fundres fino ai territori di competenza della malga in Val di Vizze le è costato la vita. L'ipotesi più probabile allo stato attuale è che la giovane sia precipitata lungo il sentiero dopo essere scivolata, compiendo poi un volo di un centinaio di metri e riportando traumi mortali. La data dei funerali della giovane Marlene non è stata ancora resa nota, potrebbero tenersi sabato, ma prima deve essere dato il nulla osta.